il cucciolo va scelto a caso nella cucciolata il cucciolo va scelto a caso nella cucciolata è una domanda questa che mi viene posta veramente tante volte perché si sente dire tantissimo è lui che mi ha scelto era quello che mi ha corso incontro per primo che ogni cano ha il proprio carattere e deve combaciare con noi con il nostro stile di vita se noi siamo delle persone piuttosto sedentarie non è corretto prendere il primo cucciolo che ci viene incontro anche perché in teoria dovrebbe essere il cucciolo più attivo più dinamico rispetto a uno che magari in quel momento dorme che potrebbe essere molto più adatto a noi al nostro carattere al nostro stile di vita quindi mi raccomando fatevi consigliare sempre bene dall'allevatore o comunque da persone che gestiscono un canile perché se si tratta di un cane che proviene da un canile ha una storia passata è un cane adulto che ha già un carattere ben definito e vi potranno dare delle informazioni in merito al carattere del cane prendete sempre un cane un gatto che si avvicinino al vostro stile di vita perché molto importante per una convivenza serena per adesso alla prossima da daniele fai già parte della nostra community iscriviti su www.bauboys.tv e potrei fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti